bella raga qui zeus benvenuti su rainbow six years episodio 54 se non erro allora raga siamo un mappa banca operatore il nuovo operatore ho preso lion vediamo siamo su artificieri attenzione attenzione qua non me lo fai un buchetto per passare no vediamo raga quello di là a recluta scappa 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 no è chiuso bledey bledey nooo non ce l'ho fatto ehm comunque raga scusate se il video di ieri quello di brohally è uscito un pochettino in ritardo però non è capito cosa è successo stavo tirando un elcio al twitch che la meta bastava non ho capito cosa è successo ehm nella play non mi faceva carichere il video mi dava errore quindi ditemi se anche voi è successa sta cosa ehm allora vediamo con lion cosa riusciamo a fare ok ci stanno persone su no 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 fra 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 prima con la calma ma perchè di beella bella cavolo bella plant fra planta Ma quanto è aggressivo questo Ok però lo devi plantare Bella Non glielo ho voluto fregare Planta Ok raga Rimane un nemico È quello là Ma quanto cavolo sono aggressivi Bella raga Bella 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 Quanto cavolo sono Quanto è aggressivo il blitz Bestiale raga Comunque andiamo a giocare il secondo round raga Secondo round Operatore legion Sempre giù ovviamente Dove dobbiamo andare Comunque vediamo cosa riusciamo a fare Il mio compagno è davvero aggressivo Però che lo sia sempre e non soltanto Ok E non soltanto col blitz Perché Dai Dai Quanti modifare cose Qua distrutto perché No Eh In realtà no Perché se No 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 vado a chiudere raga Perché se quello di là Non so Qua non lo vorrei mettere Ne metto uno qua Vado a mettere l'altro da quella Ecco volevo andare a baricare Eh ma non posso più Ovvio Allora tirerò un po' Quella là Prepararsi alla azione Quella là Mmm Dopo ti piazzo Una cosa qua No ci sto l'ho piazzata tutta Allora vedi questa qua Eh l'altra la butti Dove cavolo Per lustrare l'area Ok fermo qua L'illegger si vissi Un po' il coso Lo mettilo anche qua Uh Stai calmo 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 Ok ottimo Dai cavolo Perché qua mi blocco Mannaggia Mi do in posizione Brava fatemi scappare Veloce Senza quello Così non sanno dov'è Bella bella cavolo Allora qui Mi devo togliere raga Bello sto d'assistere Ottimo Oh sto bello Calma ecco cosa dicevo là Perché qua se avviene qualcuno Siamo un pochettino Instabili Allora vediamo Ad ammettere Qua è tutto chiuso Ma anche Sì pensi sì Infatti Ma faccio un tizio Fra dove cavolo è Sto tizio Sai che non ho capito Dove cavolo è Il Il Eccolo Ebbene Dai cavolo Allora attenzione Raga perché questo di qua Si pide a clasciare Che raga metto questo qua Oh cavolo è scappato E' scappato Ok l'ho sentito Ottimo Se vuole venire Ben venga Oh Chi cosa Quando Dove e perché Dai me lo potete mettere un segnalino Che stava là Pensavo che era fuori Pensavo che era nel bunker Va bene Non l'avevo soddissimamente capito Che era là Va bene Terzo round Vediamo Siamo col twitch Ho presso twitch Vediamo cosa riesco a fare Speriamo soprattutto Che stanno giù Così li messacriamo Come poco fa Quello di là Comunque quello con il glass Si stava facendo il clutch Cioè Ucciso a me E un altro mio compagno E l'altro Quello dello smoke Neppure aveva capito Dove era Quindi è bestiale Ci ha fregato a tutti Comunque Allora Veniamo col twitch Vorrei Conservarlo per un poco Almeno Allora Vediamo Optimus Tanto non ti lo distruggo Tipo ore Immediatamente No no Per niente Vediamo Dove stanno Allora Il mio compagno Questo di qua È aggressivissimo Comunque Col Col blitz Ok Qua subito Il mio compagno Che pompa No no Un secondo Fra Fra Non andare così Eccolo Ci sta qua Sta su Sta su Fra Sta su Sta su Sta su Come io devo dire In croato Sta sopra Optimus Ok Vai Un po' Mi vedono No Ci sta il pulse Ma Dovevo capisco Sta nelle scale O sta là Dovevo fare velocemente Così Rai Perché Stai infatti Nelle scale Non c'è Quindi Se sta su È un problemone Eccolo Ok Vorrei lasciarmela Prendere questo E mettere qua E vedere Ok Ok Tra l'altro Qua Ok 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 raga Devo aspettare un secondo Devo aspettare Devo aspettare No Fra Raga Meno male Meno male Che Che cosa Mi ha pompato Praticamente Perché se no Ero morto Sta sopra Starà Sicuramente Raga Ok 26 di vita Verrà da là No Volevo ucciderlo io Comunque raga Che fortuna Qua Siamo stati bravi tutti In realtà Ok Altro round Allora Ufficio Cassieri Archivi Vediamo Io presso Ela Piazzo Questo qua Questo qua Così mi Mi può coprire Un pochettino Allora Vediamo Raga Io sto giocando Un secondo Ok Perché non me lo fa pensare Ok Ho presso Ela Senza Bombette Praticamente Cioè Sono abituato Aiuto Optimus Raga Baricate Baricate qua Quanti kg sono Quattro Nice Una partita normale Raga Ok Allora Ti piazzo Questa qua Eh Lo scudo Dove te lo piazzo Qua lo piazzo Del mio compagno Ottimus Raga Dovete Dovete baricare là No no Se non baricate qua Non si fa niente Dai dai Cavolo No Non ci credono là Eh Raga Questo di qua È un bel problemone Allora Vediamo Uh C'è il blitz Là Ok No Non voglio Challengerlo Raga Oh Calmo Blitz Ok Ok Ci sta il glass Dai Raga Qui devo chiudere Un secondo Devo chiudere Un secondo In modo Velocissimo Veloce Bella Uh Con quanto Mi sono salvato Quel doc Dai Va a fare spawn Il doc Ma non ci credo Allora Devo mettermi qua Raga Dietro sono coperto Dalla porta dietro Perché c'è il mio Ela Raga Non riesco a vedere nessuno So che c'è E ho visto anche dov'è Ottimus No 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 Non ci credo Si è suicidato Mannaggia Raga Se colpisce la mia mina A pressione Mia pressione si chiama La conclusione Concussione Ok Mannaggia Non ho capito dov'è Raga Ma Mannaggia Sono senza niente Mi serve un aiuto Si si Mi serve un grandissimo Aiuto Ok Uno è fuori Ora ci sta il twitch Che non ho la più pallida Di dove sia Allora me lo fai mettere Ce lo fai a metterlo là Ok Bella Bella Cavolo Qua è tutto chiuso Nel caso Gli viene la pazza idea Allora Qua c'è la mia mina Quindi Posso anche aspettare L'attenzione Che è tutto aperto Restano 15 secondi 10 secondi E via Ok Raga Ah C'è il mio compagno Grande Dove stava Dove è sceso Ora sono curioso Ah Stava lì Ok Tra poco l'uccidevo io Comunque Comunque Raga Qua ho 5 2 1 Una partita Normale Simpatica Belli azioni Da parte di tutti E raga Per questo appuntamento È tutto Vi ringrazio tantissimo La visione Vi ricordate C'è il migliore Mi piace Questo video Commentarlo Condividerlo Spolliciate Ci si becca Un altro video Guarda Datemi ovviamente Consigli Uh Bello sto Euro 2 Euro 2 Che tra poco Diventa Euro 1 Perché all'inizio Delle partite Danno tipo 86 Dipende Rispetto a Ai 20 Che ne danno Dopo Praticamente Dopo qualche mesetto 86 punti Dai è buono Ci si becca Un altro video Qui Zeus Bella Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.